Buonasera a tutti. Mi chiamo Massimo perché ho scelto loro due. Lei perché è elegante, è una bella donna. E lei perché fa e litiga sempre con Tina. Ah, pensa. E quella sarebbe la motivazione. Pensa che motivazione. Beh, guarda, avevo un interesse per Gemma perché Gemma è... Ma è un po' d'acqua? Eh, l'ho già bevuto prima. Ok, ok. Perché oggi Gemma è una donna completamente nuova. Sì, completamente nuova. La donzelletta viene dalla cantata. Mi fa piacere che sei molto spiritosa e insisti sempre. Ha fatto un bel tagliando. E quello che proprio non mi è piaciuto oggi, e non mi piace di Tina, e lo devo dire, è anche il tuo modo di discutere con lei. Penso che vi abbia dato dei punti a tutte e due, alla grandissima. Quindi, mi spiace Gemma, ma non sono più interessato a te, ma molto di più a lei. Grazie.